La provincia non ha speso assolutamente nulla di doppio, non ha fatto spese improprie, ma ha operato seguendo pedissequamente il dettato della norma in materia di forniture paglienti pubblici. Il presidente della provincia di Padova vuole mettere un punto alla querelle dei banchi con le rotelle acquistate la scorsa estate. Dopo l'intervista che ci ha rilasciato ieri, Fabio Bui ha voluto convocare la stampa a Palazzo Santo Stefano per parlare anche con i dirigenti dell'ente. La documentazione richiesta dalla Corte dei Conti di Venezia è stata spedita e non sono emerse anomalie. La provincia parla per atti e per comunicati del presidente, non per altro. La scorsa estate, sentite le scuole, la provincia ha ordinato 956 sedute innovative, così si chiamano quelle che conosciamo, come banchi a rotelle. Due scuole, il tito caro di Cittadella e l'istituto superiore Leonardo da Vinci di Padova, però, ci hanno ripensato. Stiamo parlando dell'anno scorso in cui in piena pandemia dovevamo ricalibrare tutta la presenza dei ragazzi nelle aule e quindi capite che qualcosa poi è stato modificato, è stato modificato in funzione delle disposizioni ministeriali sulla presenza in aula che cambiavano di giorno in giorno. Oggi abbiamo un consolidamento dei dati e quindi possiamo programmare diversamente da qui a settembre. I banchi in magazzino, quel magazzino che già mesi fa vi abbiamo mostrato, ora sono 345 e verranno dati alle scuole che ne faranno richiesta. Bui, quindi, vuole mettere fine alle polemiche sorte dalle dichiarazioni che si sono susseguite e rimarca come solo gli atti possano parlare. Le dichiarazioni dei vicepresidenti contano nel momento in cui sono dichiarazioni supportate da atti e gli atti, i numeri e i decreti, soprattutto, sono quelli che fa il presidente.